Luca Gaudiano, il vincitore di tale e quale show 2023, sta rilasciando le sue prime interviste dopo la vittoria e in una di queste si è lasciato andare a una stoccata per determinati talent show. In particolare, il cantante di Foggia si è espresso su Amici di Maria De Filippo, in una lunga intervista per Superguida TV. Ha ripercorso anche il momento della vittoria, svelando le sue prime emozioni, e ha parlato dei progetti futuri e delle competizioni nate nel programma. Ma partendo dal suo commento su alcuni talent show, ha ammesso di aver fatto i provini per entrare nella scuola di Maria Gaudiano avrebbe voluto, quando era, molto più piccolo, partecipare al talent show di Canale 5. Ma oggi crede di essere solo fortunato a non essere stato accettato come nuovo allievo. Ecco cosa dichiara quando gli viene chiesto di dire la sua sui talent come X-Factor e a, Mi sento di dire, anche fortunatamente, non mi hanno mai preso. Credo sia soggettivo che propongono ottime proposte musicali. I progetti di successo arrivano dopo molto tempo quando l'artista trova una propria strada. Non ho mai visto di buon occhio quel tipo di percorso. Il fatto che riescano a fare grandi numeri non significa che siano percorsi. Dunque, il vincitore di tale e quale show 2023 non crede che quello fatto ad amici di Maria De Filippi sia un percorso di qualità. Eppure proprio da quella scuola sono usciti i volti che fanno ormai parte del panorama musicale italiano da veri protagonisti. E probabilmente avendo davvero ottenuto quei, grandi numeri, saranno riusciti a metterci della qualità nel percorso. Solo di passaggio. Fatto nel talent show. Quali sono le prime emozioni provate da Luca Gaudiano quando ha saputo di essere vincitore di tale e quale show 2023? Felicità e gioia. È ciò che ha provato il cantante. Che sta vivendo proprio un periodo d'oro. Una vittoria che arriva dopo un lungo percorso. In cui ogni settimana i concorrenti sono stati messi, fortemente alla prova. e fa notare quanta fatica c'è dietro il lavoro del programma relative anche alle ore di trucco.